Grazie. 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 Per la serie A al tavolo 19 Pandolfo Cavallaro. Grazie. 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 Per la serie A al tavolo 17 Cappella Raimone. Grazie. 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 Per la serie A al tavolo 13 Perissa Antonazzo. Grazie. 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 sempre per la serie A tavolo dodici Canivaro Gatti Grazie 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 Per la serie C al tavolo due Fabio e Bruno e Giacomo Grazie 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 Per la serie C al tavolo sette Saverio Montalbano Ano Giuseppe di Migaglia Ano Giuseppe di Migaglia Grazie 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 Grazie. 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 Per la serie C al tavolo 4 lo Iacono Celestini. Grazie. 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 Per la serie C al tavolo 3 Ribezzo Vignola. Grazie. Per la serie C al tavolo 3 lo Iacono secondo termomolismo non è come esistilo in più nella tua situazione hữu di pausa 12 quindi ogni volta non è invece successo la civile è un altro problema che la situazione è ancora un piacere granito dopo, e alle cose' dica del pensitezza quasi oggi ormai. Grazie. U idealità nel seno 1 conditions comorché non si senza insegnezza senza izvere una ancora ogni cosa che si Wittoria non è veramente preciso. Grazie. 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 Celestini Sergio passa il turno per forfetto dell'avversario. Grazie. 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 Forlani Mameli al tavolo 19. Grazie. 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 Al tavolo 1, Alonso, i compazzi. Grazie. 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 Grazie.